Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle Questa è una settimana strana Perché di solito al martedì parlo di fumetti Però c'è stato lo scorso weekend C'è stato un 1-2 di quelli secondo me molto molto importanti E quindi ragazzi non potevo mica fare nient'altro È capitato tra capo e collo Fallout Che io non mi stavo neanche aspettando Non mi ricordavo neanche che avessero fatto la serie Quindi me la sono bruciata nel giro di poche ore E quindi dovevo parlarne e ne ho parlato E poi invece quella era una cosa preventivata Sono andato a vedere Ghostbusters e Minaccia Glaciale E quindi sapevo che ne avrei parlato Ma prima di cominciare ovviamente Andate qua sotto, iscrivetevi al canale Attivate la campanellina, mettete un like e commentate Sono quattro gesti che a voi vi basta proprio un click Un attimo, pochissimissimi secondi Ma a me dà un boost fortissimo per la crescita del canale Poi se vi piacciono tanto i miei contenuti e volete supportare Ci sono sempre i super grazie Ci sono sempre gli abbonamenti Ciancio le bande Iniziamo a parlare di Ghostbusters Allora Quando uscì alcuni anni fa nel 2021 E in piena pandemia Ghostbusters Afterlife Avevamo tutti davanti agli occhi Quella ciofeca clamorosa Di Ghostbusters 2016 Answer the Call Cioè il Ghostbusters con le donne Noto a tutti così E quindi tutti quanti erano terrorizzati Dall'uscita di un nuovo Ghostbusters Perché avevano paura che sarebbe stato qualcosa di assolutamente rispettoso Del Ghostbusters dell'84 Anche perché, raga È inutile girarci attorno Ghostbusters del 1984 È un film Assolutamente maledetto Ma che nella sua maledizione Ha fatto sì di diventare un piccolo cult Perché dico che è un film maledetto? Allora Il film era stato scritto Da Dan Aykroyd e Aaron Ramis Interpreti rispettivamente Di Ray Stence E... Non Peter Venkman E Egon Spengler E... Per praticamente avere Dan Aykroyd Per avere John Belushi John Candy E Eddie Murphy Quindi un quartetto Il problema qual è? John Belushi muore per overdose Quindi via Rimangono gli altri tre Eddie Murphy Molto interessato per la figura di Winston Zedmore Praticamente decide di accettare L'offerta di Beverly Hills Cop E di fare Excel Foley Che sarà uno dei suoi film di lancio enormi E un altro ce lo siamo tolti Poi abbiamo John Candy Che doveva fare con Spengler E fa Splash Una sirena Manhattan E quindi un altro ce lo tiriamo via E... Per il ruolo di Venkman Doveva esserci Belushi Lo hanno proposto a Steve Guttenberg Il Carrie Mahoney Di Scuola di Polizia E lui in quell'anno decide Di prendere l'offerta Di... Del ruolo di Carrie Mahoney In Scuola di Polizia Piuttosto Che fare Peter Venkman E quindi... E quindi succede che Viene ribaltato tutto Vengono presi attori Dal Saturday Night Live E Danny Croyd e Aaron Ramis Decidono di passare Dal lato scrittura Al lato attoriale Ernie Hudson Prende il posto di Eddie Murphy E ne viene fuori Un capolavoro immortale Fatto veramente con due noccioline Perché è stato un film immortale Che ha settato Veramente Il livello di nerdagine E le scene epiche Che è veramente Over 9000 Ed è rimasto Nella mente di tutti Bene Arriviamo a Ghostbusters Afterlife Un film Scritto E... E diretto Fondamentalmente Da Jason Reitman E Gil Kenan Jason Reitman Figlio di Ivan Reitman E Gil Kenan Che è praticamente Il suo aiuto Bene È un film Che decide Totalmente Di deviare Dallo stile Dei primi Ghostbusters Per giocare molto Su quello Che è l'effetto Nostalgia Invece che Un film Comedy Rimane un film Per famiglie Che approccia Un po' Lo stile E l'atmosfera Degli anni 80 Con il revival Ok Effetto nostalgia Manetta Giocato bene Rispettoso Della materia originale Altissimo livello A tanti Non è piaciuto Per me È un film Enorme E arriva A questo punto Il film successivo Nel corso Dei mesi Dall'uscita Di quel Ghostbusters Afterlife Si sono Susseguite Voci Su voci Su voci Su voci E Jason Reitman In alcune interviste Aveva detto Varie volte Ma guardate Ragazzi Io stavo pensando Di reinserire Anche nel secondo film Vigo Flagello Della Carpazia Travaglio Della Moldavia Come diceva il film Perché tanto Ci sarà Da qualche parte Un quadro equestre Del grande Vigo E io dentro di me Dicevo Ma te è andata bene Con il primo film Te è andata bene Con Afterlife Che In maniera Sensata Perché l'ha fatto In maniera sensata Hai Ributtato dentro Gozer E La trama Del primo film Aggiornandola In maniera Anche abbastanza Intelligente Ma perché Ti devi andare A buttare In un In un Cull de sac Assolutamente Senza senso Richiamando Richiamando quello Che era Un vecchio film Lascialo Perdere Evita Di richiamarlo Anche perché Non è che fosse Stato sto Gran successo E da quel film Dell'89 Poi non si ebbe Più un seguito Fino al 2016 E comunque Non è un sequel Per intenderci Quindi Io L'avrei lasciato Totalmente Da parte E si Vabbè Possiamo anche Contare Il 2009 Con Il videogame Che è In tutte e per tutto Il terzo film Dei Ghostbusters Ma fondamentalmente A livello Cinematografico Dopo Vigo Tutto spento Tutto andato E allora L'idea Di Continuare Non dico Sul Sul Senso Di L'amore Del passato Il richiamo Il recupero Il revival Hanno deciso Di inserire Un Un villain Diverso Chiamare Frozen Empire Invece che Inserire Qualcos'altro Tanto passa Un insetto Gli do Uno schiaffone E Piuttosto Hanno deciso Proprio di Cambiare strada Andare su Un'altra divinità Una divinità Preistorica O comunque Storica Passata E lavorare Su quello Ci sta Hanno mantenuto Lo stile Che aveva avuto Il successo Il 2021 Cioè Non andiamo A fare Un film Comedy Andiamo a fare Un film Per famiglie Dove Raccontiamo Le problematiche Di una famiglia Per la precisione Cioè La famiglia Spengler Che è una famiglia Come tutte le altre Con l'unica differenza Che sono La figlia E i nipoti Di Egon Spengler La famiglia Di uno Dei più importanti Acchiappafantasmi Che decide Di portare avanti L'eredità Del vecchio E di diventare Acchiappafantasmi Però pur essendo Una famiglia Normale Perché C'è Una madre Dove Il padre Cioè E' sparito Non si sa niente I due figli Uno maggiorenne Che aveva avuto Un ruolo Molto importante Nel primo film Adesso ha un ruolo Un po' più Da comprimario E Una figlia Che invece Ribalta Totalmente Il ruolo Perché Laddove Avevamo avuto Finn Wolfhard Figlio Del successo Di Stranger Things Che aveva avuto Su di sé Un grande Occhio di bue In questo secondo film E' McKenna Grace La più piccola A avere L'occhio di bue La luce Su di sé E credo che Da quel punto di vista A livello recitativo Lo porti avanti Meravigliosamente Intanto Perché Ormai Non è più una bambina Sono passati Quattro anni E' passata Dalla avere Tredici anni All'averne In questa Nella realtà Diciassette Nella storia Quindici E Raccontare Quello che sono I problemi Emotivi Vitali Di Una giovane Adolescente In una famiglia Che onestamente È tutto fuorché Normale È una famiglia Normale Dove c'è Una madre Un compagno Che è conosciuto Nei momenti di difficoltà Alcuni anni prima Un fratello Molto particolare Tutti accomunati Dall'eredità Degli Spengler Ci sta Come ci sta La classica situazione Di lei Minorenne E quindi Obbligata A dover fare Un passo indietro A dover E Doversi comportare Da ragazzina Perfetto Un po' meno Perfetti Gli atteggiamenti Di questa figura Perché? Perché se da una parte È realmente La Spengler Per eccellenza Perché è La figura Di Grandissima Intelligenza Di Spicco Nel gruppo È anche La persona Più ingenua Quindi Accomuna In sé Sia Il lato Spengler Che il lato Stance Perché Nel gruppo In realtà Nel vecchio Gruppo originario Egon Spengler Era Lo scienziato Poco Aderente Alla realtà Ray Stance Era Il visionario Decisamente E Come posso dire Era Il bambino Che guardava Cioè L'adulto Che guarda tutto Con gli occhi Del bambino Qua invece Lei ha La grandissima Intelligenza Ma Ha In alcuni momenti Delle situazioni Da adulta Poi però Ha delle scene Assolutamente Fuori Non Sense Con dei comportamenti Assolutamente Non Sense Ci sta Però è lei Il motore Del film Perché Tante delle situazioni Fondamentali Sono legate A lei Tante Tante delle situazioni Che porteranno Avanti la trama Sono legati Al suo rapporto Familiare E non E con questa figura Secondaria Che compare Di nome Melody E E lei Avrà un ruolo Importante Nel finale Del film Però Quelle scelte Che compie Sono Secondo me Delle scelte Assolutamente Fuori di testa Che non hanno Non hanno senso E Banalmente Incontra questa Melody Una fantasma Io avrei Apprezzato Tantissimo Se Ci avessero Fatto vedere Qualcosa Proprio di Melody Banalmente Viene fatto capire Che i suoi due Genitori Sono morti E Non sono lì Ma sono da un'altra Parte O peggio ancora Sono stati catturati Dagli acchiapafantasmi Quindi Devi giocartela Un pelo Su Quella Su quella Storia Magari Facendoci Patire Molto di più La sua Storia Personale E purtroppo Da quel punto di vista Il pathos Su quella figura C'è Ma non è Così ben Sviluppato E La parte La parte emotiva Di quella figura È tutta appoggiata A un odimo Grande Come una casa Qua bastavano Cinque minuti In più Di racconto In un determinato Momento Della storia E sarebbe stato Perfetto Perfetto Magari Legandola Anche All'evento Che scatena Tutto all'inizio Del film Sarebbe stato Perfetto Perfetto Le figure Attorno Mi fa piacere Che Porrad Nella figura Del genitore Del genitore Non genitore Quindi del compagno Della madre Che deve cercare Di fare la figura Del compagno Ma non ancora Considerato un padre Quindi Tutta la parte centrale No Bene o male La trama Di questo film È Una grossa Ricerca È un grosso Investigativo Quindi È Una caccia All'indizio È una caccia All'informazione Allo scoprire Qualcosa Per Riuscire a capire Cosa sta succedendo Perché Gli eventi Che Si succedono Non sono chiari Non si capisce Cosa sta succedendo Perfetto Per me Quella parte Lì Gestita così È gestita Meravigliosamente Perché I vecchi Ghostbusters Il primo Fondamentalmente È L'ascesa Dei Ghostbusters Fino All'evento Clou Dell'arrivo Di Gozer Qua Noi sappiamo Già Chi sono i Ghostbusters Noi sappiamo Già Che cosa Possono fare Quindi Non ha più Senso Creare Quelle scene Come era Nel vecchio film Dove Ogni tanto Avvengono le scene Che portano avanti La trama Poi Sono tutte scene Dove I Ghostbusters Vanno fuori Cacciano Fantasmi E Fanno gli sbruffoni No Situazioni familiari E Una continua ricerca Un continuo studio Per migliorare Per scoprire Quello che sono Gli eventi C'è un'altra cosa Che io ho apprezzato E ve lo dico subito Spoiler L'inserimento In maniera Prepotente Dell'elemento Magico Che cosa Che cosa voglio dire Perché gli altri tre Film L'elemento Magico C'era Era un elemento Divino Erano figure Assolutamente Divine In grado Di Utilizzare Poteri Magici L'essere umano Non era in grado Di utilizzare Poteri Magici Bene No No Hanno inserito Una figura Una figura Che è interpretata Da Kumail Nanjani Che Per me ci sta tantissimo Perché è una figura Legata Da un retaggio Magico Con una storia Importante Con Una Dei poteri Importanti E una motivazione Per fare tutto Quello che fa Bene Anche se è un po' Arrasciata La parte finale Bene Ci sta È importante Che venga portato avanti Che venga raccontato E secondo me L'inserimento Dell'elemento Magico Anche da parte umana È molto importante Perché Può dare Delle Possibilità Di sviluppo Anche Per Film Futuri Del franchise Perché si potrebbe Tranquillamente Inserire Nelle Nelle situazioni Future Un ghostbuster In grado Di utilizzare Determinati poteri Magici O banalmente La figura Interpretata Da Kumail Nanjani Può essere Una figura Che Diventerà In pianta In pianta Stabile Un ghostbuster Che utilizzando I propri poteri Magici Può Può Dare Supporto Importante Ai cacciatori Di fantasmi Perfetto È un'idea Che può Servire Da supporto Per il futuro Meraviglia Il cattivo È un po' Leggero Bella la parte Dove viene raccontata La sua storia C'è un punto Dove viene raccontata La sua storia Seguendo Le sculture Sculture antiche Con le sculture Che si animano Raccontando scene Di guerra Raccontando scene Di combattimento Con questa divinità Meraviglioso Così come È chiaro Che questa figura È lì Per tutto il film A tirare le fila Anche se Nascosto Riesce In un certo Qual modo A Rendersi Pericoloso Mi piace Leggerini Certi rapporti Cioè certe cose Come vi dicevo prima Accadono perché sì Non il motore iniziale Della trama Ma Quello che porta Poi All'assalto finale È una situazione Assolutamente perché sì Perché noi abbiamo visto Esattamente la stessa situazione A inizio film E a inizio film Cioè Una situazione diversa A inizio film Dove ci viene detto Che stava avvenendo qualcosa Peccato che Nel momento iniziale Stava avvenendo Ma viene bloccato Nella parte finale Viene detto che serviva un'altra roba E poi viene portato a termine Leggerezza di scrittura Però comunque interessante Interessante Come il fatto che Grazie al cielo Non hanno portato Vigo Poi Che riescano a congelare I fasci di protoni Poi me lo verrai a raccontare Però a parte quello E io l'ho trovato Io l'ho trovato assolutamente godibile È un film diverso Dei primi Ghostbusters È un film Più familiare E meno caccia ai fantasmi Con situazioni di gag Con situazioni divertenti Con... E anche Devo dire Molto moderno Perché come era moderno All'epoca Ghostbusters È moderno Ancora adesso Questo Ghostbusters Pur facendo L'occhiolino al passato Pur facendo Dei grandi collegamenti Al passato Pur Riagganciandoci Delle situazioni Su cui tutto il fandom Aveva detto Sì vabbè ma Sta roba non ha senso E infatti ci viene spiegata Ma potrebbe Ma potrebbe succedere Una cosa importante Nel futuro E ci viene spiegato Il perché Con una risoluzione Decisamente Un pelo me Decisamente me Perché E L'utilizzo Che viene fatto Del Del trappolone Mmm Meh Spiegami come una cosa Rotta può funzionare E rimanere chiusa Raccontamelo Raccontamelo Senza che nessuno Lo richiuda Spiegamelo Ma vabbè Ma vabbè Tant'è Per il resto Facciamoci due minuti Di spoiler Così Posso parlare Anche degli spoiler In un paio di minuti 3 2 1 Spoiler Come vi dicevo prima Io ho apprezzato Tantissimo L'inserimento Della Dinastia del fuoco Cioè Tutto quello Legato a Kumai Nanjani Con La questione Dell'ottone Del fatto che L'ottone sia importante Come amplificatore di poteri Ma anche come E Blocco potenziale Per la divinità Che così non può E Controllare qualcuno All'esterno E rimane sigillata Lì Mi piace E' un po' Arrasciato il modo In cui impara A utilizzare i poteri Cioè Adesso a Fra 5 minuti Impara a utilizzare Perfettamente i poteri Sì Va bene Però L'ho trovato interessante Cioè L'inserimento Di un umano Magico All'interno Del mondo Di Ghostbusters Secondo me E' una bella scelta Innovativa E anzi Io Esorto Spero Che Jason Reitman Possa portare avanti Per il futuro Anche Un inserimento Magico Proprio All'interno Di Ghostbusters Perché Perché la magia C'è Il sopranaturale C'è Quindi Va sfruttato Deve creare Veramente L'effetto Wow Anche utilizzando La magia Ci sta Quello che Secondo me Non ci sta Sono Alcuni comportamenti Di Phoebe Spengler Così come La parte finale Come viene bloccato Il mostro Cioè Se tu Phoebe E La crei Come La secchiona Di turno Iper intelligente Che E Vuole catturare I fantasmi Perché ha un retaggio Di famiglia Sì Va bene Si trova Con questo Fantasma Di una Giovane Ragazzina E quindi Le dà corda Ma Una cacciatrice Di fantasmi Non la invita In casa Ma peggio Ancora E Non va Nel laboratorio Con Delle situazioni Problematiche Dei momenti Di crisi Perché ci sono stati Di momenti Di crisi Importanti A Farti Succhiare L'anime E diventare Tu stesso Un fantasma No Il motore Per cui Il mostrone Si libera È lei Che si Fantasmizza Per parlare Per essere Allo stesso livello Di melodi Per poi venire Comandata Da questo mostro Che dovrebbe essere Rinchiuso Dentro la sfera Ma che in un certo Qual modo Si sente fuori E che comanda Lo spirito Di dire Le parole Per farlo liberare E se lo spirito Dice quelle parole E recita quelle parole In non si sa Quale lingua Anche il corpo fisico Dice quelle parole Ovvero Cioè proprio una roba È Deve succedere così Perché sì Va bene Così come Un'altra cosa Che è un perché sì Totale È Come viene Catturato Garraca Cioè il dio Del ghiaccio Bene Figa la parte Del Maestro del fuoco Che gioca molto Sul maestro di chiavi Il guardo di porta E va bene Molto figa Anche l'idea Con cui Phoebe Spengler Imbeve Nell'ottone fuso L'acceleratore Di particelle Per fare in modo De creare Un tipo Di fascio Protonico Di tipo Differente In modo tale Da bloccare Il mostro Ci sta È in character Poi però Mi devono spiegare Com'è possibile Che Detoni Il La griglia Di Di protezione E detoni Il serbatoio Dove sono stoccati Il dispositivo di stoccaggio Dove sono stoccati I fantasmi E però Quando riescono A bloccare E ci viene Il fascio di luce Blu E rosso In cielo Che apre Uno squarcio Dimensionale È però Nel momento In cui bloccano La divinità La Quella luce Si spegne E si richiude Il Il serbatoio Ma in quale vita Non hanno mica Riavvolto il tempo E quando è lì Riattivano Il serbatoio Come se fosse Una grande trappola E il mostro Viene tirato dentro Si Però è aperto Non lo hai chiuso Non c'è una griglia Di contenimento È un serbatoio Aperto Senza griglia Di contenimento Come Come fai A tenerlo dentro Quella per me È un'ingenuità totale Però Detto questo A me È piaciuto Tanto Divertente Godibile Riflessivo Anche se in alcuni momenti Forse Un po' leggerino Però mi ha divertito Secondo me Una di quelle serie Che se portate avanti così La possono portare avanti Finché vogliono Continuate a darmi McKenna Grace Perché veramente Sta da dio In questo film Sta veramente da dio È veramente In character Detto questo A parte che È un sequestro Di persona Io vi saluto Ci vediamo Stasera Su Twitch Per andare avanti Con la lettura di Bleach E Domani Invece Con il Weekly Manga Report A domani belli Ciao E gli omini di Marshmello E tutti i fantasmini No Devo dire che È un film Secondo me Ben riuscito Ben riuscito Per la scrittura Ben riuscito Per alcune scelte Molto interessanti Ritorno a William Peck Walter Peck Non William Peck Walter Peck Di William Hatterton Che qua è Il sindaco Di New York E continua a fare Le sue figure Di merda Con i vecchi Ghostbusters Soprattutto Bill Murray Che quando entra in scena Non ce n'è per nessuno Come sempre Vecchio cuore Alcolista Bill Murray Vecchio cuore Soprattutto Bill Murray Grazie.